Parco ha nascosto tutti i desideri che hai Nella valigia della follia Martina che piange ancora davanti a un fil Non hai il coraggio di dirgli sì, andiamo via Sorridi per niente Risponsimi nel vento Li compongo con la chitarra acustica I miei brani nascono prevalentemente voce e chitarra acustica Alcune volte utilizzo il piano ma giusto ad accordi È diventata una moda dell'ultimo momento presentare anche i brani in questa formazione Un po' per esigenze di copione, vedi il fattore economico perché comunque i locali, i live club e quant'altro non hanno più a disposizione il corrispettivo economico per poterci consentire di proporre i brani nella formazione in band che comunque sì è prevista Però poi abbiamo utilizzato questa formula, ci è piaciuta anche perché ci siamo resi conto che il brano così nella sua nudità, nella sua semplicità diventa più sincero per chi lo ascolta Quindi mettersi a nudo alcune volte non è poi così male Grazie